Gentili telespettatori, buona giornata. Il ministro ormai ex Fioramonti ha dato le dimissioni il 23 dicembre nella notte con letterina di Natale a Giuseppe Conte. Un Natale fantastico per il Presidente del Consiglio che dicono che è arrabbiato, molto seccato. Ma lui dice mi stupisce che tante voci della leadership del Movimento 5 Stelle mi stiano attaccando in questo momento. E per che cosa? Per aver fatto solo ciò che ho sempre detto? Sono le parole con cui Lorenzo Fioramonti risponde alle polemiche. Perché si parlava già da giorni di un suo possibile addio, ma molti dicevano ma sì, lo dice solo per dire parla parla, ma poi come tutti gli altri rimarrà attaccato alla poltrona. Poi lui aggiunge, credo sia la prima volta che nella storia del nostro paese un ministro della Repubblica venga criticato perché ha fatto ciò che aveva annunciato, non da giorni ma da mesi, scrive Fioramonti in un post in Facebook in cui risponde alle accuse che gli rivolgono. Lui dice io ho ribadito che volevo fin da subito almeno un miliardo per la ricerca, pena le dimissioni. Poi parla anche di Matteo Renzi e lo critica dicendo forse non dovrebbe neanche stupire che mi giungono critiche dai leader che avevano promesso di abbandonare la politica in caso di sconfitta elettorale, ma sono ancora al loro posto. Ma lui, Fioramonti, già da tempo non condivideva la linea politica dell'ex ministro Luigi Di Maio. In un'intervista proprio a Sette, un inserto del Corriere della Sera, diceva che il Movimento 5 Stelle era snaturato, ma questo non lo dice solo Fioramonti, lo dicono tutti nel Movimento 5 Stelle e lo hanno capito anche tutti in Italia. Snaturato perché l'importante è continuare a governare, stare al potere, lo stipendio e impedire a Salvini di andare alla guida del paese. Quindi per riuscire a realizzare tutto questo quadro di potere e di stipendio hanno snaturato tutte quelle che erano le loro idee di base, perché se avessero continuato a essere fermi e irremovibili sulle loro idee di base, a quest'ora il governo non ci sarebbe più. Avrebbero votato contro la finanziaria delle tasse, avrebbero votato contro la firma della modifica del trattato del MES e tante altre cose, però per andare avanti devono dire sì, firmiamo, sì Conte, sì PD, perché l'importante è non perdere il posto di lavoro. Ma questo non lo ha capito solo Fioramonti, l'ha capito praticamente tutta Italia. Ma poi quando nel Movimento 5 Stelle hanno saputo delle reali dimissioni di Fioramonti, hanno detto, beh, 3 miliardi, cominciasse lui a restituire i 70 mila euro che ci deve. E Fioramonti risponde a questa richiesta di denaro. E lui dice, mi stupisce che tante voci della leadership dei 5 Stelle mi stiano attaccando. Sarebbero dovuti essere loro a chiedermi di onorare la parola data, favorendo le dimissioni, invece di chiedermi di fare quello che i politici italiani hanno sempre fatto, finta di niente. Poi lui punta il dito contro il sistema farraginoso e poco trasparente di rendicontazione. Dice, le mie ultime restituzioni, dice, saranno donate sul conto del Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile, un centro di ricerca pubblico che ha promosso a Taranto una città deturpata da un modello di sviluppo sbagliato. E poi dice, invito anche altri parlamentari 5 Stelle a fare lo stesso, non appena il conto sarà attivo. Ho chiesto a tutto il governo di fare il più di più per finanziare il Tecnopolo, perché è forse il segno più concreto per una comunità civica che ha bisogno di futuro. Sarebbe un piccolo gesto, aggiunge, per dimostrare che la ricerca, soprattutto quella che può migliorare la qualità della vita, ci sta davvero a cuore. Poi dice, io ho pagato fino a tutto il 2018, non ho pagato solo il 2019, ma facendo due conti, quello che dicono nel Movimento 5 Stelle di 70.000 euro, quando nel 2019 il pagamento non è ben chiaro, perché alcuni parlano di 2200 più 300 della piattaforma Rosso, altri parlano di 2300 compresa la piattaforma Rosso, non si capisce esattamente, comunque quello che i parlamentari e i senatori dei 5 Stelle devono far tornare, più che far tornare, devono dare al Movimento, che poi il Movimento lo dà a fondazioni di ricerca, eccetera, eccetera, più 300 per la piattaforma Rosso, possiamo dire che tra i 2200 e 2500. Quindi stiamo parlando di circa 25.000-30.000 euro all'anno. Se Fioramonti dicono deve dare 70.000 euro, vuol dire che mancano i pagamenti di due anni, più o meno di 24 mesi. Quindi c'è il 2019 completo, più ci saranno altri 12 mesi divisi, non so da quanto tempo Fioramonti è in politica, quindi probabilmente da quello che si evince avrà pagato solo i primi due o tre mesi se li ha pagati e poi non ha mai più pagato il Movimento. Poi, nel senso, se loro hanno preso un impegno con il loro partito di ridare questi soldi, lo devono onorare. Non possono dire che è farraginoso, non è trasparente. Se tu hai preso un accordo, li dai per essere poi candidato. Se no, non sei candidato e non dai questi soldi. Ricordiamoci che non sono solo i 5 Stelle che ridanno denaro dal loro stipendio ai partiti, cioè pagano i loro partiti, ma tutti i senatori e parlamentari di tutti i partiti d'Italia danno dal loro stipendio dei soldi al partito. Sapete che non c'è più il finanziamento pubblico ai partiti, quindi devono raccimolare dei soldi per la sussistenza. Quindi, ad esempio, si evince che la Lega, i senatori e i parlamentari sono quelli che restituiscono di più 3.000 euro e si dice che servono anche per ripianare il debito di 49 milioni. Quindi poi ci sono gli ultimi, quelli ultimi della lista, che sono i renziani che pagano circa 500 euro al mese. Quindi i grillini con i loro 2.000, 2.300, 2.500 non erano certo quelli che pagavano di più. Però il dato è questo, che su tutti i 945 parlamentari, gli unici che non pagano il proprio partito sono proprio i grillini. Ricordiamoci che stanno pagando, che sono in regola con i pagamenti, il 5%. Il 95% non sta pagando. Quindi sono in regola solo 15 deputati su 317, 315. Quindi stiamo parlando di un 5% che paga, il 95% non sta pagando. Mentre in tutti gli altri partiti tutti pagano il loro partito, dal primo all'ultimo, completamente la cifra che devono dare. Quindi quando hanno sbandierato, noi siamo gli unici che paghiamo, che diamo dei soldi al nostro movimento, onestà, onestà, alla fine era realmente e completamente l'opposto. Tutti pagano in Parlamento e loro sono gli unici che non restituiscono i soldi al loro partito. Intanto Lucia Azzolina, che è la presidente in pole position al MIUR, per il posto di ministro lasciato vuoto da Lorenzo Fioramonti, la sottosegretaria all'istruzione del Movimento 5 Stelle, è un'esperta di scuola. Due lauree, è diventata dirigente scolastico lo scorso agosto, ha denunciato di aver ricevuto minacce di morte per il decreto salva precari. Lei, 37enne, Lucia Azzolina, originaria di Florinda, in provincia di Siracusa, in Sicilia, trapiantata in Piemonte. Con lei alla guida del MIUR, MIUR potrebbe tornare una preside, perché, come dicevamo prima, era dirigente scolastica. La preside adesso si chiama dirigente scolastica. Quindi, abbandonato l'esperimento del professore universitario Fioramonti, i 5 Stelle si vorrebbero quindi affidare a un'esperta di scuola. Dicevamo due lauree in filosofia e diritto. Azzolina è diventata dirigente scolastica lo scorso agosto. Non era ancora sottosegretario, ma deputato e responsabile scuola del Movimento 5 Stelle. Lei svolgeva già il ruolo di ministro ombra, visto che si è occupata dell'unico provvedimento che è andato in porto in questi quattro mesi. L'approvazione del decreto salva precari, con il quale si pongono le basi per una mega sanatoria di precari, 24.000 posti, e per un concorso ordinario, altri 24.000. La scrittura del testo è stata complessa e Azzolina ha addirittura denunciato di aver ricevuto messaggi di morte da alcuni groppetti di precari che sono rimasti esclusi dalla sanatoria. Lei è stata anche insegnante di sostegno e sindacalista. Ha fatto le sue battaglie come sindacalista contro le classi pollaio, ha presentato un disegno di legge appena eletta per ridurre il numero massimo degli studenti per classe proposta popolare, ma non centrale, visto che le classi pollaio riguardano il 5% della popolazione scolastica, che tra l'altro sta diminuendo. Comunque sembrerebbe una persona comunque differente da Lorenzo Fioramonti, perlomeno una persona più quadrata, più seria, non so tra virgolette seria, riguardo le esternazioni che ha fatto Fioramonti in questi mesi, che sono risultate la maggior parte di queste esternazioni abbastanza curiose. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia Notizie, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate. Grazie e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.